E' stato condannato a 30 anni di reclusione Leonardo Lo Giudice, l'operaio di 65 anni di Mongioffi Melia, piccolo comune del Messinese, accusato di aver ucciso il primo ottobre scorso il 64enne Pietro Loturco. L'uomo è stato condannato alla pena massima per il reato di omicidio aggravato determinata per effetto della scelta del rito abbreviato. Il corpo del 64enne è stato ritrovato pressoché decapitato il primo ottobre dello scorso anno nelle campagne di Mongioffi Melia. Leonardo Lo Giudice era stato tratto in arresto dai carabinieri di Taormina il 22 dicembre scorso. La vittima si era recata in un fondo agricolo per compier via alcuni lavori. Era stata affrontata e uccisa con tre colpi di fucile semiautomatico Calipro 12 caricato a pallettoni, esplosi alla testa a distanza ravvicinata. L'attività investigativa aveva consentito di identificare l'autore dell'efferato delitto individuato sulla base della riconducibilità del materiale balistico, rinvenuto sulla scena del crimine ad un'arma di sua proprietà, nonché di fare piena luce sul movente dell'omicidio da ricondurre ai frequenti dissidi legati ai cattivi rapporti di vicinato tra il pensionato e il suo assassino. Erano state eseguite numerose perquisizioni nei confronti di cittadini del piccolo comune ionico che detenevano legalmente armi compatibili con quella utilizzata dal killer e tale attività aveva consentito di sequestrare un fucile Calipro 12 semiautomatico. L'arma sottoposta ad accettazione tecnico-scientifico presa il ris di Messina era risultata essere proprio quella che aveva esploso i colpi mortali all'indirizzo di Loturco. Sulla base dello schiacciante quadro indiziario elaborato, la Procura della Repubblica di Messina aveva ottenuto dal GIP il provvedimento cautelare a carico di lo giudice, che adesso è stato confermato dalla condanna di primo grado.